È stata approvata la graduatoria definitiva del bando 2022 per il sostegno al pagamento del canone di locazione, cioè il cosiddetto bando affitti. Sono 555 i beneficiari che riceveranno il contributo, suddivisi tra una fascia A, cioè coloro che hanno un ISEE, fino a poco più di 6.000 euro e sono 347 questi beneficiari e che percepiranno fino a un massimo di 2.190 euro di contributo annuale. Per la fascia B, cioè coloro che hanno un ISEE fino a poco più di 12.000 euro, i nuclei familiari che beneficeranno sono 208. 68 sono le domande escluse per mancanza di requisiti o per mancata presentazione della documentazione. Ed è importante questo perché la cifra totale che viene appunto erogata da parte del comune di Fano ammonta a 958.000 euro. È la cifra più alta, l'importo più alto di tutta la regione Marche, questo grazie anche all'intervento importante che nel 2022 per il secondo anno consecutivo ha fatto questo comune, implementando, cioè incrementando con risorse proprie fino a 170.000 euro le risorse che erano previste dal riparto da parte della regione del Fondo Nazionale, visto che c'è un meccanismo premiante per coloro per i cui comuni che appunto aggiungono risorse proprie. Questa è una scelta politica forte che questo comune ha fatto anche condivisa e apprezzata con le organizzazioni sindacali. L'abbiamo fatto perché il fenomeno, il problema del disagio abitativo è crescente e pesa su molte famiglie, su molti nuclei familiari. Questo chiaramente è un segnale importante perché davvero vogliamo sostenere con cifre anche significative quelle famiglie che hanno sempre più difficoltà per affrontare anche spese che sono appunto ricorrenti come quella dell'affitto. È uno degli interventi che fa parte di una serie di altri interventi di sostegno alle famiglie in difficoltà.